Ciao a tutti, riprogramma la tua mente inconscia, prova per 21 giorni. 21 giorni è il tempo necessario per programmare, per inserire un'abitudine positiva, per inserire qualcosa di positivo nella nostra mente. E allora noi possiamo riprogrammare la nostra mente inconscia, soltanto l'1% della popolazione lo fa, quindi molto pochi. E infatti questo 1% sono quelli che hanno successo. Riprogrammare la propria mente inconscia cosa significa? Significa dialogare con la nostra parte emotiva. E noi abbiamo un solo modo per dialogare con la nostra parte emotiva, che è una parte bambina, quella di offrire delle emozioni. E allora dobbiamo imparare a concederci ogni giorno, every day, come direbbero gli inglesi, delle emozioni. fare qualche piccola cosa che ci genera un pochino di imbarazzo, fatta con l'unico scopo, l'unico motivo, di dare delle emozioni alla nostra parte emotiva. in modo tale che la nostra parte emotiva possa renderci il favore, facendoci raggiungere un obiettivo. E allora dobbiamo pensare ad un obiettivo che vogliamo raggiungere in questi 21 giorni, e poi attraverso un atto cerimoniale, diciamo, la nostra parte emotiva dopo esserci messi in contatto con lei. Per mettersi in contatto con la parte emotiva è sufficiente chiudere gli occhi, rilassarsi e poi semplicemente affermare cara parte emotiva, se vuoi parlare con me mi spingi in avanti e sentirai una spinta in avanti. A questo punto hai attivato un codice del sì, la spinta in avanti e quindi inizierai a, diciamo, a chiedere alla parte emotiva che tipo di emozione vuoi. Ti va bene se ti do questa emozione e dici quello che vuoi fare? Fai questo per 21 giorni e poi fai la domanda Cara parte emotiva, in cambio delle emozioni che ti ho dato mi fai raggiungere questo obiettivo e elenchi l'obiettivo. Se la risposta è no, vuol dire che non hai dato sufficienti emozioni, allora puoi, diciamo, ribaltare la domanda dicendo se ti do altre emozioni puoi farmi raggiungere questo obiettivo e continui fin tanto che otterrai una spinta in avanti. Quindi la risposta sì, una risposta affermativa. Allora avrai riprogrammato a quel punto lì la tua parte emotiva, avrai riprogrammato il tuo inconscio e avrai una parte emotiva disposta a darti tutte le energie e tutte le situazioni per farti raggiungere quell'obiettivo che tu vuoi raggiungere. Avrai riprogrammato. Normalmente 21 giorni sono sufficienti, qualche volta ce ne può voler qualcuno di più, però almeno 21, perché in 21 giorni riesci a riprogrammare positivamente, diciamo, inserire nuove abitudini positive nella tua mente. Bene, per questo video è tutto. Iscriviti al canale, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!